Musica Allora, da Simiri Cricchi e la partita Simiri Cricchi Gasperina intervistiamo il presidente del Gasperina, Giuseppe Talotta Questa partita, com'è stata presidente? È stata una partita sofferta, facevi complimenti ai miei ragazzi come sempre si sono fatti trovare pronti avevamo tanti infortunati, però alla fine abbiamo vinto Praticamente il Davola pareggia con Cotorella adesso la squadra è prima in classifica Siamo primi, siamo stati sempre primi solo due partite abbiamo fatto da seconda classificata speriamo bene il giro d'andata l'abbiamo concluso primi classificati Grazie per la visione! Grazie per la visione!